Forse c'è voglia di cose belle, di cose antiche, di cose di una volta. Forse anche questa è la spiegazione del perché la dodicesima edizione della transumanza di Nebbi 1 ha avuto anche quest'anno un incredibile successo. Migliaia di persone, un numero davvero incalcolabile, non è una battuta, e la sfilata poi di tanti capi di bestiame. Un successo che ha sorpreso anche voi organizzatori come comune, ma anche come gruppo di volontari. Sì, ha sorpreso anche noi, ma io credo che questo successo sia dovuto al fatto che quest'anno ci sia stata una nota di gioventù all'interno dell'organizzazione. Bravi loro, bravi partecipanti, grazie al buon Dio che ci ha favorito nel buon tempo. Allora, Riccardo siamo abituati a vederlo con le macchine da corsa, dobbiamo dirlo, perché tra le tante cose che c'erano esposte oggi alla sagra di transumanza c'era anche la sua macchina con cui ha vinto il gruppo N alla recente Relle di Rubinetto. Ma a parte questa escursione nel mondo dei motori, abbiamo detto tantissima gente e soprattutto tanti espositori, insomma un numero davvero impressionante. Sì, è stata una manifestazione difficile comunque da organizzare, ma abbiamo fatto un lavoro tutti veramente molto bello, molto forte e abbiamo avuto una bellissima risposta da parte di espositori, allevatori e soprattutto anche un buon lavoro di pubblicità. Infatti abbiamo il paese colmo di gente che è venuta a vedere questa manifestazione. Gli approvi si sono andati in modo particolare agli allevatori del Mottarone, della zona nostra, che hanno voluto sfilare in questa occasione e vogliamo ricordare in modo specifico Giglio Ceresa, poi la famiglia Astrola, Paolo Tondina che è di Nebbiuno e poi non hanno sfilato, però erano presenti nei vari stand e negli spazi a loro dedicati, altri allevatori del territorio, che sono Matteo Ceresa, Simone Carraro, Giuliano Strola, Claudio Cerutti, Giacomo Aghina, Matteo Torri e Giampaolo Rossi.